18 novembre 2003 in Italia viene proclamata una giornata di lutto nazionale a Roma si svolgono i funerali solenni delle vittime dell'attentato avvenuto a Nassiria il precedente 12 novembre l'intero paese si stringe attorno ai parenti delle vittime dell'attacco terroristico in Iraq in meno di 24 ore un milione di persone rende omaggio ai caduti durante la funzione nella Basilica di San Paolo le note del silenzio eseguite da un carabiniere risuonano contemporaneamente a quelle nelle oltre 500 caserme di tutto il paese risuonano 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 Grazie a tutti.